Punto e a capo, i boschi salubri di Montefusco continuano ad essere preda di vandali, spazi ampi di vegetazione alla merce degli incivili di turno che anziché gettare i rifiuti negli appositi contenitori si appassionano nel lancio delle buste dal ciglio della strada fin giù al vallone dove si trova di tutto. Terra violentata, non solo buste di plastica, cartigienica, fazzolettini, bicchieri, cassette di legno, noti per la spesa, ma addirittura un passeggino al ridosso della croce del Belvedere, nonché un televisore e carcasse di metallo. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ma è possibile che la mano scelerata non riesca proprio a comprendere che quel verde vada tutelato per se stessi e per i figli che verranno? I cittadini confidano nella ritrovata civiltà dell'incivile di turno. E intanto, sabato 5 marzo, sarà organizzata la seconda giornata ecologica, volontari al lavoro per ripulire il territorio. Per chiunque voglia partecipare, l'appuntamento è alle 8 in via Casale San Felice.